Un 28enne di Cattolica è stato arrestato nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il giovane in un terreno di sua proprietà a Tavuglia ha coltivato una piantagione di marijuana. La Guardia di Finanza di Rimini da tempo monitorava la sua posizione. Mercoledì il 28enne è stato pedinato e sorpreso mentre innaffiava canapa indiana occultata tra piante di pomodori e peperoni. Determinante in primis l'intervento delle unità cinofile, in secondo luogo le verifiche attraverso il narcotest hanno dato esito positivo. Gli esemplari di cannabis a breve avrebbero terminato il ciclo della fioritura. Dopo il taglio e l'essicazione, il cattolichino avrebbe potuto mettere sul mercato una quantità ingente di marijuana. La piantagione illegale è formata da 75 piante con fusto oltre un metro d'altezza dal peso complessivo di 150 kg. Nella sua residenza cattolichina, il 28enne nascondeva una piccola quantità di ascis. Dovrà rispondere davanti alla legge del reato di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti.